Vedete chi sono un che va piangendo e dimostrando il giudicio d'amore, e già non trovo sì pietoso cuore che mi guardando una volta sospiri. L'ovella d'oglia me nel cor venuta, la quale mi fa dovere piangere forte, e spesse volte a me che mi saluta tanto di presso l'angosciosa morte, che fa in quel punto le persone accorte che dicono in fra loro questa dolore, e già secondo che ne parte fuori, dovrebbe dentro aver nuovi martiri. Questa pesanza che nel cor discesa ha certi spiritegi ha consumati, i quali erano venuti per difesa del cor dolente che li avea chiamati. Questi lasciarono gli occhi abbandonati quando passò nel lamento un rumore il quale dicea, dentro biltà, che amore, ma guarda che pietà non vi si viri.